Ciao, con questo video vi mostreremo come registrarsi ed iscriversi ad un torneo di Street Games. Scorrendo sulla home page del sito istituzionale streetgames.it, nella sezione Eventi, avrete la possibilità di selezionare la tappa a cui volete partecipare. Verrete trasferiti sull'e-commerce nella pagina dell'elenco di tutti i tornei previsti. Una volta identificato il torneo a cui volete partecipare, basterà cliccare sulla voce Leggi il regolamento e in questo modo avrete la possibilità di aprire il documento, visionarlo e una volta scelto il torneo vi basterà cliccare sulla check Seleziona. Scorrendo più in basso, il capitano o referente della squadra dovrà inserire il nome della propria squadra e tutti i suoi dati anagrafici. E una volta terminato il format, ti basterà cliccare su Accettazione al trattamento della privacy e la presa a visione del regolamento. Se desidi rifattura, basterà cliccare sul tasto Desidi rifattura e compilare i dati richiesti. A questo punto basterà cliccare su Conferma i dati per proseguire negli step successivi. Siamo pronti ora per procedere al pagamento, ma se controlliamo la posta elettronica il sistema ci avrà inviato la prima mail di conferma di avvenuta registrazione, che contiene anche il link per accedere direttamente alla tua area riservata senza passare dal login. Possiamo ora finalizzare l'iscrizione cliccando sul tasto Paypal e sarete così trasferiti al sistema di pagamento. Puoi procedere con il tuo account Paypal oppure cliccando su Utente non registrato potrai inserire tutti i tuoi dati e il circuito della tua carta di credito. A pagamento effettuato con successo ritornerete in automatico sul sito di Street Games e se controlli la posta elettronica il sistema ti avrà inviato una conferma di pagamento e di iscrizione avvenuta con successo. Sarà riportato anche il link per accedere in automatico alla tua area riservata senza login. Procediamo ora con il tasto Gestione squadra. Qui cliccando su Aggiungi atleta avrai la possibilità di inserire tutti i componenti della tua squadra e per ognuno di loro tutti i dati anagrafici necessari all'iscrizione. Al termine clicca il tasto Salva atleta. Se osserviamo ora l'elenco l'atleta è in uno stato di attesa approvazione. Infatti riceverà una mail con l'invito a partecipare al torneo e cliccando sul link potrà prendere visione dei dati anagrafici dati inseriti e dovrà accettare così la privacy e la conferma di lettura del regolamento. Una volta accettato potrai vedere che ora lo stato dell'atleta è modificato in attesa certificato e potrai così procedere all'inserimento e al caricamento del certificato medico agonistico. Terminata l'operazione lo stato dell'atleta sarà quello di completato. Questa procedura dovrà essere ripetuta per tutti gli atleti appartenenti alla tua squadra. Una volta approvate da Street Game tutti i dati e i certificati inseriti la squadra sarà regolarmente iscritta.